L'angolo, tirilo davanti a te e resta vicino all'interruttore. Un punto e cinque, un punto e sei, un punto e sette. Cosa sta? Sembrava una finestra. Un punto e otto. Pegnere la luce! Un punto e nove. Lago indica il massimo. E niente col fuoco! Sì, in guardia, capitano, alla finestra! Tappate quella finestra! Sì, capitano! Sì, capitano!